La sicurezza è precondizione del benessere. Con queste parole il questore di Pescara Luigi Liguori ha inteso incentrare il suo intervento in occasione delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della Polizia di Stato in Piazza della Rinascita. Dopo la suggestiva parata degli allievi della Scuola di Polizia e il saluto delle autorità l'atteso discorso di Liguori ha bilancio delle attività svolte in quest'anno. Non prima di aver ringraziato tutti i suoi uomini e aver ricordato con un pizzico di commozione l'ispettore superiore Angelo Donofro scomparso di recente all'età di 58 anni per via di una brutta malattia. Costante anzi in aumento la presenza sul territorio anche attraverso dei servizi straordinari nei comuni della provincia, ben 16. 800 gli interventi complessivamente effettuati e stabile, poco sopra i 200 il dato sugli arresti effettuati. 45 kg di stupefacente sequestrato soltanto dagli uomini del Dipartimento Antidroga, 38 invece gli agenti feriti nello svolgimento del loro dovere. Complessivamente si registra un calo del 3% dei reati, ancora di più su alcuni reati specifici. Diminuzione dei reati, in generale anche i reati di atti persecutori, lo stalking, sono in netta flessione del 13-15%. C'è qualche piccola, c'è qualche problema, seppur nella diminuzione generalizzata ci sono alcune tipologie di furti che sono in aumento, ma non sono quelli in abitazione per esempio, che sono pure in calo, anche se a volte si legge allarme furti qua, i furti ci sono, ma i furti in abitazione sono in calo, in lieve calo per fortuna. Stanno aumentando i furti, per esempio sulle autovetture, un po' si è tornato ai tempi vecchi, o i furti di ciclomotori, in maniera esponenziale, stanno aumentando, del 10-12%, però il bilancio è sempre positivo per noi. Tra le tante onorificenze consegnate poi quelle al capo della squadra mobile di Frischia, alla comandante della Polizia Postale Narcisi e ai cittadini virtuosi, cioè coloro che hanno dato un contributo fondamentale nella conclusione di diverse indagini.